Bella a tutti ragazzi, siamo ancora qui, sono ancora qui a Fuerteventura, guardate che tramonto che c'è, ok? Location fantastica per un mini tutorial, un blues facile, che molti di voi magari l'avranno già visto, altri no, ok? E si tratta appunto di un blues molto facile, con un piccolo accorgimento, questa piccola scaletta che è molto figa. Ok? Andiamo a vederlo nello specifico. Allora partiamo stavolta dalla plettrata, ok? La plettrata è in palm mute, ciò significa che mettiamo il nostro palmo della mano al limite delle corde per creare questo effetto. Ok? Partiamo piccolo blues, primo tasto, secondo tasto, primo dito sul secondo tasto della quinta corda. E suoniamo sesta e quinta corda, ok? E alterniamo quarto tasto con secondo tasto. Ok? Un, due, tre, quattro, sei, 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 o, ok? Questo è il ritmo. Parte finale, facciamo questa scaletta, ok? Terzo tasto della sesta, quarto tasto della sesta e rincominciamo. Cambio! Cambio, quindi stavolta suoniamo secondo tasto della quarta corda, quindi suoniamo quinta e quarta corda, ok? Stessa cosa. Un, due, tre, qua, un, due, tre, qua, scaletta. Ok? Quindi terzo e quarto tasto della quinta e rincominciamo. Mi prendi tutto? Mi prendi tutto? Ok. Sei settima, che è sempre un accordo, il quinto grazie che ci serve. Potete fare anche, se volete, scaletta al contrario, quindi al posto di questo facciamo questo. Ok? Ok, ragazzi, piccolo blues, divertentissimo da suonare in spiaggia, non solo a Fuerteventura, ma anche in giro per tutta l'Italia, per tutto il mondo. Sicuramente farete colpo, ok? Su chiunque vi ascolti. Vi ricordo che se volete imparare a suonare la chitarra da spiaggia, io ho creato il metodo da spiaggia per imparare a suonare la chitarra in soli tre mesi, all'incirca, dalle basi, fino ai ritmi, fino alle vostre canzoni preferite, con il mio corso online, chitarra digitale, che trovate qui giù, il link è in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video. Bella! Buona fa.